Il 26 febbraio a Venezia c'è stata la manifestazione regionale degli agricoltori di CIA e Confagricoltura. Stessa manifestazione c'è stata poi in tutte le regioni italiane. A Venezia è venuto il presidente nazionale della CIA, al quale chiedo che cosa avete chiesto oggi in regione. Gli agricoltori italiani in tutta Italia, in tutte le piazze d'Italia e oggi a Venezia si sono riuniti sotto le bandiere di Agri Insieme, di CIA, Confagricoltura e della cooperazione per manifestare tutto il nostro disagio verso la disattenzione che i governi, quello europeo, quello nazionale, hanno verso l'agricoltura e gli agricoltori. Noi ci appoggiamo molto alle istituzioni territoriali perché riteniamo che siano i nostri primi alleati, sindaci, le province, le regioni. Perché il territorio sta morendo sotto i colpi di una burocrazia, di una politica che disattende tutti gli impegni presi. L'agricoltura italiana ha grandi risorse, ha giovani donne che vogliono impegnarsi in questo settore ma non è rispettata. Faccio alcuni esempi. Noi abbiamo avuto una pressione fiscale che è aumentata dal 2012 al 2014 di 750 milioni di euro. Oggi andrebbe aggiunto a questo quello che il governo vuole ancora dall'agricoltura che è l'Imu sugli ex terreni svantaggiati. Cioè noi andiamo a colpire ancora una volta chi più fatica per rimanere sul territorio, quel territorio fragile che vogliamo mantenere. Ecco, lì quell'agricoltura che molte volte è a reddito scarsissimo, noi la tassiamo, la tassiamo attraverso una tassa patrimoniale sui terreni come se quei terreni fossero un reddito, in realtà sono uno strumento di lavoro, un povero strumento di lavoro. E poi provvedimenti sbagliati presi sull'applicazione del primo pilastro della PAC che discrimina gli allevatori, tra quelli che si sottopongono i controlli funzionali e altri no. Quindi il 47% di allevatori italiani da latte non potrà prendere questo premio. In un momento in cui il latte ha un prezzo che non raggiunge il punto di pareggio con i costi. E poi ancora, noi abbiamo avuto un'ulteriore riduzione dell'assegnazione del gasolio. Non abbiamo il gasolio sufficiente per arare i campi. Ecco, questo è l'impegno che il governo pone per sviluppare l'agricoltura. Non ci fornisce il gasolio per arare i nostri campi, produrre quel mais che vendiamo sotto costo a 13-14 euro. Questa è la nostra protesta, ma è anche una proposta. Noi chiediamo attenzione, vorremmo aprire dei tavoli su cui far comprendere le nostre ragioni. Noi non chiediamo nemmeno più denaro, chiediamo che lo Stato ci metta nelle condizioni di poter competere così come lo fanno i nostri competitori. Ecco, alle stesse condizioni non abbiamo paura di nessuno, non abbiamo bisogno di nulla. Ecco, prima lei diceva in regione appunto che gli agricoltori stanno subendo in prima persona e da soli il problema della chiusura delle frontiere russe. Certo, noi ci stiamo pagando senza nessuna colpa, incolpevolmente, un provvedimento che è stato preso dalla Russia di chiusura delle frontiere e di sostanziale limitazione dei prodotti agroalimentari che dall'Italia e dall'Europa possono andare in Russia. Lo stiamo pagando da soli, non è intervenuto nessuno. L'unico intervento che è stato fatto dall'Unione Europea è stato fatto con risorse prelevate dal fondo agricolo. Quindi ci siamo pagati da soli il danno che altri ci hanno provocato. Noi non possiamo sostenerlo questo embargo, non possiamo sostenerlo noi che produciamo la materia prima, che è quella su cui le disfunzioni, le crisi agroalimentari si scaricano per prima. Quindi su questo argomento importantissimo per noi, per la nostra frutta, il nostro latte, noi registriamo un'assenza della politica e nessuna risposta. Ecco, lei ha citato il latte, che cosa sta per cambiare? Beh, sta per cambiare molto. Avremo un mercato totalmente libero fra qualche giorno, dovremo essere attrezzati per sostenere una competizione che sarà più difficile, dovremo investire sulle nostre eccellenze, sui nostri formaggi, sul nostro latte di alta qualità che saprà farsi valere nel mondo. Io non ho grossi dubbi su questo. Però oggi le politiche, anche quella presa dalla Regione Veneto, ho avuto modo di leggere un provvedimento assunto dalla Giunta Veneta, devono muoversi per valorizzare quello che noi abbiamo, cioè valorizzare la nostra differenza, che è la tipicità delle nostre produzioni, è il nostro parmigiano, il grano padano, i tanti formaggi di qualità che noi abbiamo. Noi dobbiamo investire nei formaggi, non nel latte. Questo è il tratto distintivo del settore caseario, lattiero caseario italiano. Ecco, prima in piazza molti agricoltori lamentavano la presenza e l'arrivo degli OMG sotto diverse forme nascoste per il consumatore. Che cosa dite? Ma certo, gli OGM sono un fatto che noi riteniamo non utile all'agricoltura italiana in quanto appunto è un'agricoltura fatta di diversità e gli OGM tendono ad omologare. Tuttavia in alcune filiere, quelle della carne e altre, siamo costretti a volte a utilizzare OGM perché nei mangimi probabilmente ci sono presenti soprattutto nella soia e in altre farine proteiche. Noi avremmo bisogno di un grande piano proteico per l'Italia ad esempio perché se noi sostenessimo la coltivazione di proteine vegetali nazionali andremmo incontro intanto alla fabbisogno di soia e di altre proteine vegetali. servirebbe molto di più incentivare questo tipo di produzione che non questo dibattito che dura da troppi anni sull'OGM sì, OGM no. I consumatori preferiscono mangiare cibi OGM free. Noi cerchiamo di darglieli fino a quanto ci sia possibile. L'ultima cosa, che cosa ha risposto la Regione del Veneto alle vostre istanze? La Regione del Veneto è una Regione molto attenta al settore agricolo, l'ha dimostrato tante volte, sono convinto che la troveremo al nostro fianco in questa battaglia. Noi come finisco, come ho iniziato, crediamo che le istituzioni territoriali siano le nostre alleate perché più di altri possono comprendere le nostre istanze. la determinazione che è stata assunta sul settore lattiero caseario dà il senso che la Regione del Veneto è vicina agli agricoltori e noi vogliamo fidarci.